Un saluto da Dottor Palmas, ti mostro un caso di denti fissi con sistema bocca bionica denti che sono ricresciuti al paziente in quanto prima non ce n'erano più se tu noti erano completamente consumati a brasi dal bruxismo questo era uno stadio terminale di bruxismo con anche problema di denti scuri, molto scuri che si verifica quando si assumono da piccoli degli antibiotici che si chiamano tetracicline queste creano dei difetti dello smalto, non solo del colore ma anche della composizione interna e quello che accade è che congiuntamente per la parodontirte i denti si sgretolano quello che abbiamo dovuto fare è stato rimuovere le ultime radici abbiamo riprogettato tutta la nuova dentatura abbiamo simulato con dei denti provvisori quello che sarebbe stato il risultato che avremmo voluto ottenere quella che vedi qua è l'RX con gli impianti inseriti 4 impianti nella parte superiore più 2 impianti ptericoidei e sotto 6 impianti dentali qua vedi il grafico dell'intervento che abbiamo eseguito le mascelle erano importanti quindi abbiamo dovuto mettere i carichi masticatori in sicurezza mettendo impianti nelle zone posteriori inclinando gli impianti evitando le zone di scarsa qualità ossea e questo che vedi a monitor sulla sinistra è come si è presentato da noi il paziente sul lato destro vedi gli impianti dentali che sono stati già inseriti con dei denti provvisori non sono ancora stati tutti caricati alla fase successiva abbiamo poi finito di caricare gli impianti abbiamo creato un design dei denti che avremmo voluto creare su questo paziente abbiamo condiviso la previsualizzazione col paziente una volta accettata abbiamo creato quelli che sarebbero stati poi i denti da mettere nella bocca del paziente quello che vedi qua è il risultato finale visto da vicino denti iperalistici un paziente adulto giovane come vedi non è un anziano ma aveva un grosso problema non sarebbe stato questo risolvibile con dei materiali semplificati o delle dentiere in resina abbiamo simulato la naturalezza del sorriso rifacendoci a dei denti esistenti, reali, perfetti e abbiamo alla fine creato roboticamente quelli che sarebbero state le repliche dei denti naturali questo è il risultato prima e questo è il risultato dopo una persona completamente diversa immagina se tu dovessi avere a che fare con queste due persone a quale delle due affideresti il tuo denaro se magari dovresti comprare qualcosa questo per darti un'idea di quanto il sorriso impatta a livello sociale di quanto sia importante non solo a livello familiare oppure di relazioni ma anche a livello lavorativo questo è un paziente che prima si presentava con una situazione di completa distruzione della dentatura e ora invece è completamente riabilitato ha un biglietto da visita sul volto che gli permette di essere riabilitato alla vita spero ti sia piaciuto questo caso questo è uno di quelli che a me è piaciuto più di tutti quando vedo pazienti così giovani che hanno dei problemi così gravi mi rendo conto di quanto è impattante il lavoro che io faccio con la mia equipe sulle persone